Saludiamo la giornata con Francesco Chiappini che ci parlerà di user experience e quindi come disegnare un sito che poi venda Grazie Allora l'obiettivo di tenervi svegli Siamo a fine giornata Di cosa parliamo oggi? Di un argomento molto molto vasto quindi l'ho ristretto in 30 minuti faremo un focus principalmente su tre aspetti la value proposition, il design e quello che è l'impatto del mobile quindi quanto è importante andare a ottimizzare anche per mobile vi passerò dei tips per pagina e infine andremo a vedere due che stati di redesign quindi quanto ha impattato un redesign per un e-commerce che ha prodotto su entrambi mediamente un 30% in più di fatturato Quanti in sala operativamente fanno e-commerce? Hanno già un e-commerce? Quanti fanno utile? Tutti giù Bene, allora innanzitutto partiamo dalle motivazioni sono tante però anche l'aspetto del nostro e-commerce sicuramente impatta Ho iniziato a fare e-commerce nel 2002 Nasco Merchant dopo 10 anni di vendita in pur playing ho venduto attualmente mi occupo di formazione sono un autore consulente anche comunque trovate qui tutti i miei riferimenti sono anche specializzato in marketing automation per e-commerce però oggi parliamo di un altro argomento immaginatevi di presentarvi così con il vostro e-commerce ne potrei prendere tanti che hanno queste immagini sicuramente presentarsi in questo modo è molto meglio Cosa si fa quando si progetta un e-commerce a livello di design? Si parte da un template quindi tante agenzie acquistano un template lo installano e abbiamo una pletora di siti tutti uguali prendete le farmacie le fanno ormai in stampa si fa a volte fatica a capire qual è una farmacia e qual è l'altra a parte il logo che cambia quindi ve l'ho ristretto molto come concetto però partite da delle grafiche vostre personalizzate quindi non ragionate sul template ma realizzate delle grafiche che poi vanno montate sulla piattaforma qualsiasi piattaforma ovviamente ci sono piattaforme che lavorano meglio con le grafiche personalizzate rispetto ad altre però la vostra immagine, la vostra identità deve essere importante e va comunicata se hai delle grafiche personalizzate puoi slegarti dalle logiche del template produci materiale proprio quindi non materiale standard che utilizzano tutti no, questo è un esempio di un e-commerce fashion luxury dove tutto quello che si trova sul sito sono immagini proprietarie quindi shooting proprietari, video, capsule immagini in still life tutta la comunicazione è gestita internamente e qui vedete poi l'applicazione nel momento in cui si è andata a creare una grafica personalizzata sia sul mobile sia sul desktop il cliente riesce a presentarsi con un'immagine propria e un posizionamento legato allo stesso design non solo immagini proprietarie ma in generale è importante curare l'intera caratterizzazione dell'e-commerce quindi lavorare sulla parte di branding a partire dal logo dalla creazione di una caratterizzazione può essere una mascotte per esempio le icone il font il packaging l'immagine coordinata a 360 gradi vi posso assicurare che oggi pochi e-commerce lavorano su questo aspetto ma l'identità ovviamente legata alla value proposition che vediamo dopo è un aspetto molto importante perché dobbiamo fare in modo di essere anche ricordati memorizzati anche a livello visivo dai nostri utenti adesso ribatto questo no Paco Pet Shop è un e-commerce potete navigarlo è completamente personalizzato dalle grafiche dalle caratterizzazioni il font è fatto ad hoc le icone sono fatte ad hoc anche le stelline delle recensioni sono state tutte create ex novo tutta la comunicazione che passa dai social dalle newsletter è stata totalmente personalizzata con un'identità che viene associata al sito l'immagine però va legata a quello che viene definita value proposition o comunque la proposizione di valore i motivi per il quale devono gli utenti venire a comprare sul vostro e-commerce gli utenti hanno solo 50 millisecondi di tempo per farsi già una prima idea di quello che trovano sul sito e il 50% va via nella pagina nei primi 8 secondi se non trova quello che ha cercato va via questa è una ricerca di Stanford University quindi parliamo comunque di ricerche molto importanti e che cosa succede? prendiamo questo sito avete questo è un quiz vi do 5 secondi per capire cosa vende questo sito cosa vende? no prodotti per mancini quindi è chiaro che se io vado su un sito e ho difficoltà a capire che cosa vende noi diamo per scontato che mettere un catalogo online l'utente che arriva sul nostro sito ci deve già conoscere deve sapere che cosa vendiamo deve stare due ore a navigare no deve avere subito le informazioni che gli servono che domande si fa fondamentalmente un utente quando atterra sul nostro sito tre domande perché devo acquistare da te cosa offre di più rispetto agli altri hanno già un cliente in mente non siete solo voi il cliente l'utente di solito è già cliente di un altro o offline o online e c'è comunque sempre lo spettro di Amazon che possibilmente lo conoscono tutti quindi fino a prova contraria hanno già in mente un player oltre voi quando arriva sul vostro sito gli dovete comunicare non solo questi due punti ma anche qual è il vostro valore aggiunto rispetto agli altri questo è l'esempio di un e-commerce B2B che l'anno scorso è stato premiato anche qui agli awards che si occupa di stampa flessografica e deve necessariamente immaginate che sopra c'è il menu e il logo quindi l'ho tagliato semplicemente per inserirlo all'interno della slide comunica quello che abbiamo detto prima quindi i motivi per il quale comprare in questo caso da flexo quindi la value proposition fai l'ordine entro le 10 lo spediamo in giornata la spedizione gratuita il supporto immediato tutte le garanzie sono domande che l'utente si fa e vanno comunicate quindi questo lavoro di inserimento della value proposition e di puntare alla chiarezza va comunicato nel vostro layout nella scala gerarchica deve avere priorità lo potete inserire sopra la slide sulla slide stessa nel leader subito sotto la slide però considerate che molti utenti non passatemi il termine americano scrollano quindi above the scroll nella parte alta cercate di inserire queste informazioni e togliete tutti i dubbi che un utente ha le domande che si fa quando mi arriva il pacco quanto costa la spedizione e il prodotto è disponibile ma anche che cosa vendi cioè non diamo per scontato che l'utente se io vado su questo sito torno indietro scusate perché dovrei dare per scontato che vado su un sito che si chiama sorgente natura e so quello che vende potrei non saperlo potrebbe vendere n cose quindi come arrivo nella home page c'è scritto il primo negozio online dove comprare prodotti naturali e biologici in Italia con un catalogo a disposizione di n prodotti al punto di riferimento per i prodotti naturali bene so quello che vendi moto abbigliamento il nostro cliente storico ovviamente moto abbigliamento mi viene già in testa che cosa vende già dal brand posso farmene un'idea però andiamo a comunicare subito che il motivo per il quale comprare quindi 8000 articoli a catalogo i punti vendita da 10 anni è presente sul mercato quindi trust perché abbiamo detto che gli utenti si fidino o non tutti e leader nella vendita di abbigliamento accessori per moto dopodiché andiamo a comunicare nel box a destra altre motivazioni quindi perché comprare da noi contrassegno sempre gratis punti vendita oltre un milione di utenti soddisfatti quindi social proof infine in alto nella parte che qui vediamo in alto cerca tra oltre 10.000 prodotti e non numero verde lo specialista risponde perché numero verde e call center ce l'hanno tanti no lo specialista risponde quindi è importante subito nell'home page andare a rassicurare l'utente e togliere eliminare tutte quelle che sono le frizioni all'acquisto e dubbi le domande che si possono fare nel momento in cui ti vedono soprattutto nella prima volta ok poi se ragioniamo con la web personalization una cosa un pochino più avanzata io questa grafica la potrei cambiare la posso cambiare in base ai segmenti che arrivano sul mio sito quindi l'utente di ritorno gli modifico la grafica l'utente nuovo vede questo perché? perché comunque lo devo convincere questo è un altro sito che sta crescendo molto molto bene è una realtà del sud di Matera Ediliamo sì Ediliamo mi viene in mente che vende prodotti per l'edilizia ma perché devo comprare da loro quindi nella value scriviamo che cosa vendono e perché acquistare da Ediliamo la value proposition 50 anni di esperienza presenti dal 2013 20.000 clienti soddisfatti più di 100 brand 9.000 prodotti in balli sicuri ogni settore ha le sue leve da comunicare al cliente per esempio in questo settore molti si domandano se l'imballo è sicuro nell'arredo uguale nell'arredo una preoccupazione che ho è che se ordino una specchiera mi potrebbe arrivare rotta quindi almeno internamente ci siamo fatti un elenco di leve da andare a capire perché che cosa può succedere che se io trovo una small business potrebbe dirmi ma io non ho tutte quelle leve con i punti di forza è un problema perché comunque se non ce le hai devi anche domandarti perché uno dovrebbe comprare da te ma se lavori con l'imprenditore qualcosa esce sempre fuori questo è un negozio di periferia che vende minuteria quindi è un comunque un business da 150.000 euro l'anno almeno per le commerce non avevamo tantissime leve abbiamo lavorato con quello che potevamo tirar fuori in questo caso abbiamo comunicato sopra che cosa vendono l'ampiezza del catalogo quindi 8.000 prodotti trust dal 1999 cioè non abbiamo aperto oggi quindi puoi fidarti abbiamo il negozio fisico e sotto 8.000 prodotti a catalogo social proof più 6.000 clienti soddisfatti oltre 15 anni di esperienza quindi se andate a lavorare nel dettaglio qualche leva per comunicare la vostra value proposition sicuramente la trovate può essere comunicata non solo testuale testualmente ma anche attraverso delle grafiche per esempio epharma ce l'ha nel box subito sotto la parte centrale lentiamo che è un sito che non seguiamo noi però ci compro le lenti a contatto quindi lo conosco ha creato delle grafiche dove in un box o in un colofon descrive motivi per il quale comprare da loro ok quindi al di là di come l'andate a comunicare visivamente è importante far capire all'utente dare i motivi le motivazioni giuste per farlo acquistare questo è un altro sito che non seguiamo noi però l'ho riportato come esempio calcio shop bene perché devo acquistare calcio shop perché questi prodotti ce li ha anche amazon ce li ha anche decathlon quindi come arrivo sul sito mi dice prodotti esclusivi quindi tanti brand che ho io non ce l'ha amazon e non ce l'ha decathlon telepersonalizzo amazon non te lo fa decathlon non su tutti i prodotti da più di 20 anni che sono online o 30 e sotto quello che è quindi la sua value position è il sito di riferimento per i calciatori quindi specializzazione state accorti che oggi essere fare commerce vendere commodities e essere generalisti significa essere carne da macello quindi se vendi commodities devi andare a verticalizzare per forza di cose su una nicchia di mercato altrimenti se sei in cima alla catena di distribuzione quindi sei produttore ovviamente hai tutti gli altri canali da affrontare è tutta un'altra storia e si amplia di tanto la tua possibilità di crescita però se vendi commodities devi andarti a verticalizzare su una nicchia di mercato non apro questa icona la richiudo subito perché non vorrei dilungarmi continuo la value proposition con dei punti ulteriori che fanno leva sulla value proposition oltre 10.000 prodotti per il calcio a prezzi scontati quindi verticalizzazione e comunicazione della value proposition settore non e-commerce spesso mi capita di andare su dei siti ma capiterà a tutti voi andate sui siti e ci vogliono 5 minuti 10 minuti per capire che cosa vendono che cosa fanno questo è un sito che subito mi comunica quello che fa deliziosi salutari preparati da degli chef consegnati a casa e sotto noi cuciniamo noi consegniamo tu ti godi i prodotti semplice poi sotto ho gli approfondimenti ma fammi capire immediatamente quello che fai quello che vendi aggiungi il trust quindi cerca di aggiungere più garanzie e benefici possibili ovviamente se sei un brand non hai bisogno di comunicare trust perché già ce l'hai se sei Hermes Paris o Zara comunichi i servizi comunichi quanto costa la spedizione i tempi di consegna ma non devi diciamo assicurare il cliente e rassicurarlo ma se siete una PMI dovete lavorare proprio in stile risico intorno al layout con tutta una serie di garanzie e valori aggiuntivi che convincono l'utente che può affidarsi del vostro prodotto o servizio mobile first design quanto impatta il mobile quanto è importante oggi rivedere anche il modo di concepire la UX il modo di progettare l'e-commerce questi sono dati di Criteo di due anni fa vediamo che in Giappone e in Inghilterra questi sono dati che sono in continuo aumento parliamo di transazioni quindi non di traffico parliamo di transazioni le transazioni da mobile superano il desktop e oggi se invece parliamo di traffico abbiamo dei siti soprattutto quei siti che sono multicanale arrivano a avere 85-90% di traffico da smartphone che cosa succede? poi che io sono l'imprenditore commissiono il sito all'agenzia ho il 27 pollici in ufficio l'agenzia mi manda il sito desktop e io sto vedendo il sito che sarà navigato al 10% e quello al 90% invece lo tengo alla fine e gli do magari un'occhiata ma sì l'importante è che vedo il desktop quindi quello che in giargo tecnico viene definito il layout riprogettato in ottica mobile first che cosa prevede? prevede un cambio di gerarchia quindi di progettazione non parto più dal desktop per scalare il design in maniera responsiva ovviamente sullo smartphone ma parto dallo smartphone per andarlo a scalare nel desktop questo è un esempio di sito che abbiamo progettato partendo proprio dal mobile questo è un e-commerce B2B voi potreste dirmi sì ma nel B2B probabilmente il traffico sarà molto desktop qui arriviamo quasi a un 70% di traffico mobile poi dipende anche come fai marketing che tipo di traffico di porti che canali utilizzi se utilizzi social network e ormai è quasi tutto se utilizzi instagram e facebook è quasi tutto mobile quindi vedo a volte delle campagne che vengono fatte su facebook e poi la landing page non è ottimizzata per lo smartphone non ha senso non ha senso quindi siamo partiti dal mobile per poi arrivare al desktop in questo caso su Magento 2 oppure su moto abbigliamento abbiamo fatto abbiamo cambiato le sezioni perché lui ha dei punti vendita chi accede dallo smartphone cerca i negozi prima che informazioni sul sito quindi i negozi hanno nella scala gerarchica una visualizzazione prioritaria quindi più in alto rispetto a tutte le altre informazioni e all'interno dei tab poi si aprono hai accesso alle app diciamo al navigatore quindi a un'app di terza parte che permette l'utente di raggiungere il negozio anche Unieuro non lo seguiamo noi questo nel caso specifico Unieuro ha cambiato tante volte il layout l'ultimo è su piattaforma ibris hanno rifatto in ottica mobile perché hanno tanti negozi e il traffico è quasi tutto da smartphone è ovvio che lo devo progettare partendo da questa progettazione qui verticale sul mobile allora facciamo una carrellata di tips quindi di consigli da applicare subito l'obiettivo è che usciate da qui già con delle best practice potete tornare a casa chiamare i vostri sviluppatori o farlo voi in prima persona applicatelo sarebbero tantissime questo è un argomento che potremmo parlare anche due giorni di fila vi ho proprio preso le basi quindi assicuratevi che almeno queste best practice le rispettate partiamo dall'home page menu lavorate molto sul menu sull'alberatura stamattina Ivano ha parlato dell'importanza dell'alberatura SEO fate keyword research quindi studiate le keyword per creare un'alberatura che sia utile sia per l'utente ma anche per i motori di ricerca se avete tanti prodotti aiutatevi con menu laterali il menu laterale come in questo di epharma può essere utile soprattutto per l'utente perché potete prendere parte del catalogo parte delle promozioni e andarlo a veicolare lì in questo caso su epharma in base magari al periodo può essere inverno bene si vanno a promuovere più i prodotti per il raffreddore l'estate i solari puoi comunicare le promo ok quindi è una best practice quella di nel momento in cui hai un grosso catalogo aiutarti anche con menu di supporto laterali la ricerca interna quanti ce l'hanno potenziata ok la ricerca interna più il catalogo è grande più diventa importante ci sono tantissimi studi di mercato non vi ho portato le slide vi posso assicurare anche facendo mappe di calore quindi andando a conoscere i comportamenti degli utenti la prima cosa che l'utente fa è andare nella barra di ricerca e scrivere all'interno il prodotto che sta cercando è chiaro che se la barra di ricerca non c'è o è minuscola l'utente non ci andrà quindi l'analisi la devi fare anche su una barra di ricerca che sia ben visibile ma se il catalogo è grande io non posso dare per scontato che l'utente abbia tutta la giornata per navigare sul mio sito no lui deve trovare subito quello che cerca la ricerca potenziata questo è do finder si chiama questo tool ma c'è clerk c'è civetta piuttosto è possibile svilupparsela internamente con linguaggi come Algolia Elasticsearch insomma si può sia comprare il servizio che svilupparlo internamente in questo caso se io inizio a scrivere casco ho una finestra che mi dà una scorciatoia alla quale posso accedere immediatamente al prodotto che sto cercando altrimenti l'utente deve andare nella categoria cercarsi il casco filtrarlo dobbiamo aiutarlo l'utente a fare meno click possibile in ufficio dovete stamparvi un foglio gigantesco con scritto KPI obiettivo meno click possibili per l'utente quindi stringere più possibile il percorso di navigazione sezioni da personalizzare un altro consiglio che vi do è prevedete ovviamente ci vuole un po' più di budget quindi va messo nel business plan prevedete dei banner o comunque delle sezioni dove in base ai segmenti che arrivano sul vostro sito potete fare personalizzazione web rientriamo nel comparto marketing automation io posso riconoscere l'utente se ho un tool di analytics one to one quindi che mi fa riconoscimento del dato e dell'utente e ipotizziamo dire se il visitatore è donna gli faccio vedere già un banner con i prodotti da donna se è estate da dove si collega gli faccio vedere una promozione sui prodotti estivi si collega dagli Stati Uniti la prima domanda che si farà quale sarà spediscono negli Stati Uniti banner spediamo negli Stati Uniti esempio 2 ho già navigato nel brand Braille bene mi ritrovo alla visita di ritorno dei prodotti del brand che ho già navigato non ho mai acquistato l'utente bene su questo cluster mi gioco un 10% non su tutti un errore che si fa banalmente è dare sconti a tutti ma alla fine si va a dare lo sconto e quindi si margina meno passatemi il termine margina ma se siete imprenditori me lo potete concedere vado a marginare meno su chi avrebbe già acquistato invece chi già vuole acquistare comprerà lo stesso devo andare a giocarmi del margine quindi delle scontistiche su quei cluster o che sto perdendo o che devo acquisire infine si collega da estero bene spediamo worldwide in più tenete degli spazi per delle offerte e delle promo queste offerte qui diventano utili anche da veicolare nei social network per esempio avete del materiale promozionale per ogni giorno fare delle sponsorizzate dei post utilizzare su Instagram cioè qualcosa che sia legato ci vuole un po' più di tempo fatela anche settimanalmente l'offerta shock è un'attività che abbiamo fatto per diversi anni su un B2B ogni lunedì non mi chiedete perché comunque c'era tutto uno studio dietro veniva fatta a un'ora prestabilita un'offerta di prodotti di telefonia sotto costo questo è ovviamente a pochissime disponibilità ci faceva in modo di riportarci sul sito tanti utenti non tutti riuscivano a comprare chi comprava comprava anche altro chi non comprava spesso comprava altri prodotti però era un modo per dire torna sul mio sito sono presente quindi per fare attività di re-engagement pagina categoria listing quindi l'home page la finiamo qua sarebbe tanto da parlare però non posso mi rimangono sette minuti pagina categoria listing ogni prodotto ad ogni prodotto voi potete associare degli attributi cosa che spesso non si fa più attributi legati a quel prodotto più avete la possibilità di filtrare durante la navigazione i filtri di navigazione non solo aiutano la SEO ma sono utilissimi per l'utente se io vado in una pagina di listing e ci sono 500 prodotti secondo voi l'utente si gira 28 pagine per vederseli tutti no gli devo dare la possibilità di andare di solito si mettono nella colonna sinistra filtrare attraverso la scelta dell'attributo e quindi del filtro del prodotto che sta cercando il prodotto lui consono di modo che gli vado appunto come dicevamo prima a ridurre il tempo di navigazione e di ricerca di quel prodotto il tempo è prezioso per gli utenti quindi almeno che non li paghiamo più stanno sul sito più li paghiamo fino a prova contraria dobbiamo aiutare nella navigazione vi potete aiutare anche vedete nella parte alta con delle scorciatoie questo è stato fatto su base analitica quindi se andate a vedere dentro analytics data questa pagina che cosa cliccavano gli utenti abbiamo creato delle scorciatoie in alto sempre nel listing mettete più informazioni possibili di modo che l'utente non deve entrare ogni volta nella scheda prodotto ma già dalla pagina categoria può capire se quel prodotto vi serve o meno quindi taglie colori prezzi recensioni potete creare dei rollover con maggiori informazioni come vedete nella foto alla vostra destra e quindi ovviamente anche il cta importante inserire tutte le informazioni più informazioni possibili durante la pagina categoria il listing il listing dei prodotti questa è una cosa che fanno in pochi ma che diventa fondamentale soprattutto se avete tanti tanti prodotti nella vostra pagina categoria è quella di gestire un merchandising personalizzato è un po' come il negozio il negozio metterò dei prodotti sopra metterò dei prodotti in centro e poi metterò i prodotti in basso che di solito non vedo nessuno perché nessuno si vuole piegare così per vedere come nei supermercati quindi decidete voi in base alle vostre esigenze le vostre specifiche che priorità volete dare nel listing dei prodotti in questo caso abbiamo definito che in alto ci va lo stock quindi prodotti con alto stock a metà l'alto margine e dopo le private label anche se navigate su Amazon Amazon ragiona con merchandising personalizzato prima mette su chi paga quindi le ads poi mette su le sue private label sui prodotti e poi in ordine ha tanti fattori di ranking e quindi lo gestisce comunque con una maniera intelligente non utilizzate il merchandising casuale ok o di default delle piattaforme scheda prodotto che cosa succede che tantissimo traffico vi arriva sulla scheda prodotto giusto se fate le campagne shopping e le campagne trova prezzi dove arriva quel traffico non arriva nell'home page arriva nella scheda prodotto un errore che si fa spesso è lavoro molto bene sulle garanzie in home page e poi nella scheda prodotto scompaiono e tutti quelli che mi atterrano sulla scheda no quindi anche qui tutto il lavoro di value proposition di garanzia di trust che ho fatto nell'home page la devo riportare anche nella scheda prodotto perché tanto traffico arriva qui tre informazioni vi prego vi scongiuro vi scongiuro inseritele nella scheda prodotto fondamentali sono tre disponibilità costi di spedizione tempi di consegna reali certi gli utenti se lo chiedono se avete una live chat vedrete che dieci volte al giorno vi chiedono le stesse cose quindi comunicatelo chi è che vuole comprare un prodotto e non sa quando arriva oppure molti che cosa fanno non comunicano le spese di spedizione me le trovo solo nel carrello nel check out esco esco perché non le avevo previste quindi chiarezza nella comunicazione inserite i prodotti raccomandati all'interno della scheda prodotto facendo upselling quindi sto vedendo questa giacca verde e marrone bene ti faccio vedere altre giacche verde e marrone che costano di più non che costano di meno 30 euro sarebbe downselling quindi devo cercare di aumentare lo scontrino medio col marketing automation ovviamente puoi gestire in maniera dinamica tramite algoritmo cosa che è consigliata perché se la gestite manualmente ci sono tutta una serie di limitazioni inserite le recensioni sempre nelle scade da prodotto che sono di una importanza fondamentale e infine ragioniamo sul check out questo noi lo chiamiamo check out senza distrazioni one step non c'è il menu il menu scompare nel check out perché non ti faccio più tornare indietro quindi via il menu potete inserire l'auto complete di google maps quindi nel momento in cui io vado inizio a digitare l'indirizzo e me lo trovo tramite google clicco e mi va a compilare già gran parte dei campi l'obiettivo qual è ottimizzare i tempi è un'unica pagina non sono 6 step si chiama infatti one step quindi un'unica pagina posso completare l'acquisto sia come ospite oppure cliccando in alto posso accedere però diamo già la possibilità di acquistare come ospite in fondo ti chiedo di registrarti ancora 5 minuti si poi mobile anche mi raccomando il check out su mobile dovete lavorare in ottimizzazione estrema parliamo oggi di sistemi di pagamento che sicuramente ottimizzeranno questo percorso di come tutti il mobile payments da apple pay google wallet eccetera chiudiamo con un case study quindi quello che è stato fatto su due commerce questo è di liamo prima quindi un commerce che stentava comunque a crescere o comunque aveva diversi problemi navigazionali è stato fatto un rebranding a partire dal logo dalla caratterizzazione della mascot ai font se si è lavorato sulla value proposition come vi ho fatto vedere prima su tutte le pagine quindi un aspetto molto più business molto più professionale pagina categoria sulla scheda prodotto sul check out veloce mentre prima c'era montato il check out classico di magento e è andato live il primo agosto questo è il risultato degli ultimi due mesi ovviamente le misurazioni vanno fatte sempre anno su anno diffidate chi fa misurazione mese su mese soprattutto se volete andare a misurare i stessi periodi temporali perché ci sono troppe variabili sulle stagionalità anno su anno con una diminuzione del traffico perché comunque l'obiettivo era andare a ridurre anche parte degli investimenti sia le transazioni che le entrate sono aumentate di oltre il 30% e il tasso di conversione ha avuto un aumento del 46% un altro esempio dove abbiamo curato un redesign da ormai quasi un anno e mezzo quindi ve lo faccio vedere su un ordine temporale più lungo che è in modo abbigliamento prima dopo quindi prima c'erano tre menu ripetuti una grafica molto molto spoglia è stato rifatto tutto il layout e l'impatto che c'è stato dal primo novembre 2018 ad oggi quindi da quando è andato online c'è stato un aumento del 30% anche qui ovviamente fa dei volumi molto molto superiori rispetto all'altro e comunque sono discreti quello col quale vi voglio vi voglio portare a fare attenzione è che l'impatto sulle revenue è proporzionale al tuo traffico le commerce abbiamo visto prima solo di online fattura dai 4 5 milioni di euro un aumento del 30% è un aumento importante se ha tanto traffico se io ho mille visite al mese e ti aumento il tasso di conversione anche dell'1% l'aumento del fatturato sarà sempre relativo quindi preoccupatevi anche di avere traffico di avere un buon business senza un buon posizionamento non venderai lo stesso anche con un sito bellissimo e ben navigabile come è vero che ci sono tanti siti che sono brutti oggettivamente anche di difficile navigazione ma comunque vendono quindi il modello di business il posizionamento è sempre in cima a tutto quindi io do per scontato che noi siamo andati a fare questa attività su business che già lavoravano che già avevano un buon posizionamento che già avevano del traffico degli utenti e quindi l'impatto è stato importante se hai molto traffico un altro concetto importante non fare redesign drastici per esempio su moto abbigliamento che è online ormai dal 2005 non siamo andati a fare un redesign drastico perché se hai tante visite gli utenti sono abituati a quel layout quindi o lo fai in maniera graduale oppure cerchi di farlo comunque tenendo le logiche di navigazione navigazione abbastanza simili se vedete Amazon dal 2005 ad oggi e ci sono portali dove potete vedere le varie variazioni che ha avuto negli anni ha sempre fatto modifiche quasi impercettibili quindi un po' alla volta un po' alla volta se avete tanto traffico il redesign deve essere graduale se non funziona il business se non avete tanto traffico lo potete anche rifare completamente e ricominciate con una nuova identità ovviamente come dicevo prima il redesign beneficia di tutto il resto delle attività che fate quindi dovete comunque ovviamente avere sempre merce in magazzino fare un buon marketing a livello logistico supportare la crescita dell'e-commerce e quello che viene definito in gergo conversion rate optimization quindi il processo di ottimizzazione del nostro e-commerce deve essere costante in maniera costante invece quello che si fa è metto la piattaforma online e ho finito no hai appena iniziato dal momento in cui tu vai online che devi iniziare a ottimizzare perché quando vai online tu non conosci il tuo cliente non conosci il tuo traffico non puoi fare sondaggi non sai che cosa come può evolvere del tuo business quindi nel momento in cui inizi a avere traffico inizi a fare sondaggi inizi a studiare le mappe di calore inizi a studiare i percorsi di navigazione e inizi appunto e continui ad ottimizzare in maniera costante e se dopo il redesign volessi ottimizzare ancora di più il sito ed aumentare le vendite bene continuo a fare cro che è già inclusa nel redesign però è un processo ripeto costante e abitesting quindi come faccio a capire se funziona più un banner o una cta piuttosto un copy rispetto a un altro li metto in test su percentuali di traffico simili o differenti e su base scientifica decido quello che è la modifica da portare sul mio layout infine potenzio e miglioro tutte le attività di marketing automation perché quando faccio cro vado ad ottimizzare tutto il traffico del sito quindi il cosiddetto traffico aggregato quando faccio marketing automation ottimizzo i segmenti ok però questa è tutta un'altra storia vi ringrazio che d'argomento per l'aspetto qui si non avanti che vado ad bet ci vado ad pranzi vado ad che si i